Un cordiale saluto ed una lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!